vi prego amici miei state a sentire sta storia che vi voglio raccontare Renò Barone, dello stampo antico, canarane e grosso a cui si fece nico Barone era e c'erano le ricchezze e stavano le case e i canalazzi avevano armato i capelli contratti erano vanto e avevano premato avevano armato i capelli contratti erano vanto e avevano premato il parco demaniale di canalazzo è una vasta area boschiva che si trova in territorio di Monte Rosso Almo il suo nome deriva dal Barone di Canalazzo che fece costruire un caseggiato fortificato nel XVII secolo un altro gruppo di case fu costruito dalla nipote del Barone, Donna Giuseppe Cocuzza nel 1861 tutto questo è in uso alle aziende foreste demaniali della città di Ragusa all'interno del parco di questo grande polmone verde troverete diverse aree attrezzate alcuni ponti di legno e un mulino d'acqua ancora oggi funzionante molto ben accurati sono i sentieri di single track che si possono percorrere in mountain bike anche dai meno esperti salve a tutti come ha già ben descritto Diego ci troviamo nel feudo di canalazzo in agro di Monte Rosso Almo questo feudo si estende per circa 1500 ettari sul territorio c'è un grande esempio un bel esempio di masseria fortificata qui alle nostre spalle e di gestione dell'azienda foreste demaniali di Ragusa il nome canalazzo deriva dai vari canaloni che si sono creati in modo naturale nelle montagne e che poi alla fine concludono sul fiume Amerillo grazie a tutti